Diritto dell'Unione Europea, videolezione numero 2. Il Consiglio Europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di Giustizia Europea, la Banca Centrale Europea, la Corte dei Conti. Il Consiglio Europeo. Il Consiglio Europeo definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali dell'Unione Europea. Non esercita funzioni legislative. Non va confuso con il Consiglio o anche detto Consiglio dei Ministri. È nato dalla prassi delle riunioni al vertice tra i capi di Stato e di governo degli Stati membri. Il Trattato di Lisbona l'ha inserito appieno tra le istituzioni e confermato il suo ruolo di impulso e di definizione degli orientamenti politici generali. Articolo 4.2. La composizione, composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo Presidente, dal Presidente della Commissione e anche, anche se di fatto è una figura particolare, partecipa ai lavori senza farne parte l'alto rappresentante per gli affari esteri. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea. È l'attua in qualità di mandatario del Consiglio dell'Unione Europea. È membro ex ufficio vicepresidente della Commissione europea. Quindi l'alto rappresentante è membro d'ufficio della Commissione europea che riveste appunto la carica di vicepresidente. L'alto rappresentante è designato dal Consiglio europeo che delibera maggioranza qualificata e con l'accordo il Presidente della Commissione. Il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura. La presenza del Presidente della Commissione è diretta a rendere l'esercizio del potere di iniziativa legislativa coerente con gli indirizzi indicati del Consiglio europeo. Il Presidente del Parlamento europeo può essere eventualmente invitato alle riunioni per essere ascoltato anche se la prassi è che il Presidente del Parlamento incontra il Consiglio all'inizio di ogni riunione. Inoltre è previsto che esso presenti al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle sue riunioni, nonché una relazione annuale sui progressi compiuti dall'Unione. Si riunisce due volte ogni sei mesi su convocazione del Presidente del Consiglio europeo. Quest'ultimo può convocare riunioni straordinarie qualora la situazione lo richieda. I membri del Consiglio europeo dispongono di un solo voto. Deliberano infatti all'unanimità nel caso di violazione dei valori contemplati dell'articolo 2.2. A maggioranza qualificata per le elezioni il Presidente del Consiglio europeo e per l'alto rappresentante PESC. A maggioranza semplice in merito a questioni procedurali e per l'adozione del regolamento interno. Non votano il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente della Commissione. Il Presidente è eletto a maggioranza qualificata per un periodo di due anni e mezzo rinnovabile una sola volta. Il Presidente non può esercitare mandati nazionali, presiede e anima i lavori del Consiglio europeo, si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo. Gli atti del Consiglio europeo sono diventati con il Trattato di Lisbona oggetto di controllo giurisdizionale da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea. In tal modo viene accadere anche per questa istituzione quel regime di insindagabilità dei suoi atti mantenutosi per anni immutato. Il Consiglio o Consiglio dell'Unione europea o Consiglio dei ministri. Il Consiglio dell'Unione europea, detto anche Consiglio dell'Unione europea, è l'istituzione in seno alla quale i rappresentanti di tutti i paesi dell'Unione europea, di norma ministri, si riuniscono per adottare le normative e coordinare le politiche. Funzioni del Consiglio approva la legislazione dell'Unione europea, coordina le politiche economiche generali dei paesi membri, firma gli accordi tra l'Unione europea e gli altri paesi, approva il bilancio annuale dell'Unione europea, elabora la politica estera e di difesa dell'Unione europea, nonché coordina la cooperazione tra i tribunali e le forze di polizia nazionali dei paesi membri. Approvazione della legislazione dell'Unione europea, il Consiglio e il Parlamento europeo prendono congiuntamente la decisione finale sulle proposte legislative presentate dalla Commissione. Riguardo il coordinamento delle politiche economiche, i paesi dell'Unione europea si sono accordati per dotare l'Europa di una politica economica globale coordinata dai rispettivi ministri dell'economia e delle finanze. I paesi membri possono trovare accordi su obiettivi comuni e condividere le loro esperienze. Firma gli accordi internazionali, infatti il Consiglio firma accordi per conto dell'Unione europea in diversi settori come l'ambiente, il commercio, lo sviluppo, il settore tessi, la pesca, la scienza, la tecnologia e i trasporti. Approvazione del bilancio dell'Unione europea, l'ammontare delle spese che l'Unione europea possa sostenere ogni anno viene deciso congiuntamente dal Consiglio e del Parlamento europeo. Politica estera e di difesa, i governi nazionali mantengono tutte le competenze in queste materie ma cooperano per sviluppare una cosiddetta politica estera e di sicurezza comune e principalmente in seno al Consiglio che ha luogo tale cooperazione. L'Unione europea infatti non ha un esercito ma per una risposta più veloce ai conflitti internazionali e ai disastri naturali alcuni paesi dell'Unione europea forniscono truppe per una forza di reazione rapida che si limita tuttavia a interventi umanitari, azioni di salvataggio e mantenimento della pace. Giustizia. I cittadini dell'Unione europea devono avere pari condizioni di accesso alla giustizia in qualsiasi parte dell'Unione europea. All'interno del Consiglio i ministri della giustizia si impegnano a garantire che una sentenza emessa da un paese dell'Unione europea, ad esempio in materia di divorzio, venga riconosciuta in tutti gli altri paesi membri. I ministri dell'interno e della giustizia coordinano il controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea e la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata internazionale. I membri del Consiglio. Non ci sono membri fissi. In occasione di ogni riunione del Consiglio ciascun paese è rappresentato dal ministro responsabile della materia trattata in quell'occasione. Ad esempio il ministro dell'ambiente sarà presente durante la seduta in cui si discuterà di questioni ambientali. Quella riunione prenderà quindi il nome di Consiglio Ambiente. Chi presiede le sedute? Il Consiglio dei ministri degli esteri ha un presidente permanente che è l'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea. Tutte le altre riunioni del Consiglio sono presiedute dal ministro competente del paese che in quel momento esercita la presidenza di turno dell'Unione europea. Ad esempio se il Consiglio Ambiente deve riunirsi nel momento in cui l'estone esercita la presidenza sarà presieduto al ministro dell'ambiente estone. Il paese che a turno presiede il Consiglio rappresenta appunto il Consiglio in tutte le sedi in cui sia necessario. Convoca il Consiglio di propria iniziativa in quanto Stato membro su formale richiesta di un altro Stato membro della Commissione, risponde alle interrogazioni del Parlamento europeo per conto del Consiglio, cura le relazioni internazionali dell'Unione. Modalità di voto. Di norma il Consiglio adotta le decisioni a maggioranza qualificata. Quanto più numerosa è la popolazione di un paese, tanto maggiore è il numero di voti di cui tale paese dispone. Vi è tuttavia una ponderazione a favore dei paesi con meno abitanti. Durante le votazioni del Consiglio si applica la cosiddetta maggioranza qualificata che si raggiunge se la maggioranza, a volte anche i due terzi dei 28 paesi dell'Unione europea, vota a favore. Sono appunto espressi almeno 260 voti su 352. Inoltre un paese membro può chiedere di verificare la maggioranza, che può chiedere che la maggioranza rappresenti almeno il 62% della popolazione totale. Se così non è, la decisione non potrà essere adottata. Nelle votazioni riguardanti le questioni di sicurezza, affari esteri e imposizione fiscale, le decisioni del Consiglio devono essere prese all'unanimità. In altre parole ogni paese membro ha diritto di veto. A partire dal 2014 verrà introdotto un sistema di votazione cosiddetto a doppia maggioranza. Perché una proposta sia adottata serviranno due tipi di maggioranza. Una maggioranza di paesi almeno 15 e una maggioranza della popolazione totale dell'Unione europea. Cioè i paesi a favori dovranno rappresentare almeno il 65% della popolazione dell'Unione europea. Funzionamento del Consiglio. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota un progetto di atto legislativo. Ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti. Una dedicata alle deliberazioni di atti legislativi, un'altra dedicata alle attività non legislative. Il Consiglio è assistito da un segretario generale che ne rappresenta il supporto funzionale ed amministrativo, posto sotto la responsabilità del segretario generale. L'organizzazione interna del segretariato è decisa dal Consiglio in maggioranza semplice. Coreper. Coreper è un organo ausiliare del Consiglio, è il comitato dei rappresentanti permanenti e cioè è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio dell'Unione europea. È composto da rappresentanti degli Stati membri aventi rango di ambasciatori degli Stati membri per l'Unione europea ed è presieduto dallo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio. È al tempo stesso organo di dialogo, cioè dialogo tra i rappresentanti permanenti di ciascuno di essi con la rispettiva capitale e di controllo politico e cioè di orientamento e supervisione dei lavori dei gruppi di esperti. Esso è responsabile dell'esame preliminare del dossier iscritti all'ordine del giorno del Consiglio, proposti e progetti gli atti presentati dalla Commissione. È articolato in due formazioni al fine di far fronte all'insieme dei compiti adesso affidati. Il Coreper primo è composto dai rappresentanti permanenti aggiunti, copre i dossier a carattere specificamente tecnico e il Coreper secondo, composto dagli ambasciatori, tratta soggetti a carattere politico, commerciale, economico o istituzionale. La Commissione. La Commissione europea è uno dei principali organi istituzionali dell'Unione europea. La Commissione rappresenta e tutela gli interessi dell'Unione europea nel suo insieme. Prepara le proposte per nuove normative europee, gestisce il lavoro quotidiano per l'attuazione delle politiche dell'Unione europea e l'assegnazione dei fondi. La Commissione è, al contrario del Consiglio, un organo di individui nel senso che i suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della comunità e non accettano istruzioni da nessun governo, istituzione, organo ed organismo ad eccezione dell'altro rappresentante dell'Unione per gli affari esteri. La Commissione è organo esecutivo in quanto il suo compito principale è quello di far applicare i trattati e gli atti, oltre che la gestione delle varie politiche comuni. Struttura. I 28 commissari, uno, sostanzialmente la struttura della Commissione è composta da 28 commissari, uno per ogni paese dell'Unione europea e questi rappresentano la guida politica della Commissione durante il mandato quinquennale. Il Presidente attribuisce ogni commissario la responsabilità per settori specifici. L'attuale Presidente della Commissione è José Manuel Barroso. Al Presidente della Commissione è affidato il compito di decidere l'organizzazione interna, definire gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti, nomine vicepresidenti tra i membri della Commissione. Il Presidente viene nominato dal Consiglio europeo. Il Consiglio, inoltre, d'accordo con il Presidente eletto, designa gli altri commissari. La designazione di tutti i commissari, compreso il Presidente, è soggetta all'approvazione del Parlamento europeo. Durante il mandato essi sono responsabili dinanzi al Parlamento, che ha la competenza esclusiva di destituire la Commissione. In base al carattere collegiare dell'organo, i singoli commissari non possono essere sfiduciati da parte del Parlamento europeo. Dunque la Commissione deve dimettersi nel suo complesso. Il lavoro quotidiano della Commissione è svolto dai suoi funzionari, ovvero personale amministrativo, giuristi, economisti, traduttori, interpreti, personali di segreteria, strutturati in servizi chiamati direzioni generali di IG. Compiti. Propone atti legislativi al Parlamento e al Consiglio, gestisce il bilancio dell'Unione europea, attribuisce i finanziamenti, vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione europea, congiuntamente alla Corte di giustizia, rappresenta l'Unione europea a livello internazionale, per esempio nei negoziati con paesi terzi per la conclusione di accordi. Propone atti legislativi. La Commissione ha il diritto di iniziativa, ossia può proporre atti legislativi con l'obiettivo di difendere gli interessi dell'Unione europea e dei suoi cittadini nelle questioni che non possono essere gestite efficacemente a livello nazionale, regionale o locale, cosiddetto principio di sussidiarietà. Quando la Commissione avanza una proposta cerca di soddisfare la più ampia gamma di interessi. Per gli aspetti tecnici la Commissione si avvale della consulenza di esperti attraverso i suoi vari comitati e gruppi di lavoro. La Commissione può anche avviare consultazioni pubbliche. I servizi della Commissione redigono una proposta di atto legislativo. Se la proposta trova concordi almeno 14 di 28 commissari, questa viene poi presentata al Consiglio e al Parlamento. Dopo aver discusso e modificato la proposta decidono se approvarla o meno. Gessire il bilancio dell'Unione europea e attribuire finanziamenti. Congiuntamente al Consiglio e al Parlamento la Commissione stabilisce le priorità di spesa a lungo termine dell'Unione europea all'interno del quadro finanziario dell'Unione. Prepara inoltre un bilancio annuale da far approvare al Parlamento e al Consiglio e controlla come i fondi stanziati dell'Unione europea vengono spesi, ad esempio dalle agenzie e dalle amministrazioni nazionali e regionali. La gestione del bilancio da parte della Commissione viene esaminata dalla Corte dei Conti. La Commissione gestisce i fondi per le politiche dell'Unione europea, ad esempio per lo sviluppo agricolo e rurale e programmi come l'Erasmus, cioè programmi di scambio studentesco. La Commissione ha anche il compito di applicare il diritto dell'Unione europea. In qualità di fatti di custode dei trattati, la Commissione verifica che ogni Paese membro applichi correttamente il diritto dell'Unione europea. Si ritiene che un Governo nazionale non stia applicando il diritto dell'Unione europea, la Commissione invia in primo luogo una lettera ufficiale chiedendo al Governo interessato di correggere il problema. In ultima istanza la Commissione sottopone il caso alla Corte di giustizia. La Corte può imprigere sanzioni e le sue decisioni sono vincolanti per gli Stati membri e l'istituzione dell'Unione europea. Rappresentare l'Unione europea sulla scena internazionale. La Commissione detiene un potere quasi esclusivo di rappresentanza dell'Unione per tutti gli atti compiuti nell'ambito del diritto interno. La Commissione rappresenta l'Unione anche all'estero, infatti spetta alla Commissione tutta la fase della negoziazione degli accordi, la conclusione di competenze invece del Consiglio. Tutte le relazioni internazionali, i rapporti con le organizzazioni internazionali sono prerogativa delle Commissioni. La Corte di giustizia dell'Unione europea. La Corte di giustizia ha il compito di garantire l'osservanza del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati fondativi dell'Unione europea. La tutela giurisdizionale dell'Unione europea è fidata alla Corte, organo unitario suddiviso in una pluralità di formazioni. La Corte di giustizia è stata creata nel 1952, il Tribunale creato nel 1988 e il Tribunale alla Funzione pubblica creato nel 2004. Struttura. La Corte di giustizia è costituita da un giudice per ciascuno Stato membro. La Corte si avvale di otto Avvocati Generali che hanno il compito di presentare pareri motivati sulle cause sottoposte al giudizio della Corte. Essi devono svolgere tale compito pubblicamente con assoluta imparzialità. I giudici e gli Avvocati Generali rimangono in carica per un periodo rinnovabile di sei anni e sono designati di comune accordo dei governi e degli Stati membri, previa consultazione di un comitato composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e dei Tribunali. La Corte nomina ogni tre anni il Presidente che dirige i lavori e le audienze. Il suo mandato è rinnovabile. Di regola la Corte si riunisce in sezioni composte tra tre e di cinque giudici. Si può riunire anche in grande sezione, composta da tre di giudici, qualora lo richieda uno Stato membro o un'istituzione europea che parte in causa. La ripartizione delle cause tra le sezioni, decisa dal Presidente sulla base di criteri di massima stabiliti alla Corte, è previsto per la Corte un cancelliere con importanti funzioni giudiziarie e amministrative. Per coadiuvare la Corte di giustizia nell'esame, nel gran numero di cause proposte per offrire ai cittadini una maggiore tutela giuridica, è stato istituito il Tribunale che si pronuncia su cause presentate da privati cittadini, imprese e alcune organizzazioni e sui casi in materia di concorrenza. Il Tribunale della Funzione Pubblica invece si pronuncia in merito alle controversie tra l'Unione Europea e i suoi dipendenti. Procedimento. La Corte è adita attraverso l'istanza trasmessa al cancelliere. Il procedimento si divide poi in due fasi, fase scritta e fase orale. Nella fase scritta, quindi in questa prima fase, le parti coinvolte presentano documenti scritti al giudice incaricato. Il giudice poi redige una relazione in cui riassume il contenuto di tali documenti e gli aspetti giuridici della controversia. Fase orale. La seconda fase è costituita dalla pubblica udienza. A seconda della complessità della causa, l'udienza può avere luogo dinanzi a una sezione di 3, 5 e 13 giudici o in presenza della Corte in seduta plenaria. Durante l'udienza gli avvocati delle parti sono sentiti dai giudici e dall'avvocato generale che possono rivolgere loro le domande che ritengono opportune. L'avvocato generale espone quindi le sue conclusioni, dopodiché i giudici deliberano ed emettono la sentenza. Gli avvocati generali sono tenuti a esprimere il loro parere su una causa solo se la Corte ritiene che detta sollevi un nuovo elemento di diritto. Detta causa sollevi un nuovo elemento di diritto. La Corte non si deve attenere necessariamente al parere dell'avvocato generale. Le sentenze della Corte sono decise a maggioranza e pronunciate in pubblica udienza. La procedura del Tribunale è simile ma non prevede il parere dell'avvocato generale. Nell'ambito della sua missione la Corte è stata dotata di ampie competenze giurisdizionali che esercita nell'ambito delle varie categorie di ricorsi. Le categorie più comuni di cause sulle quali la Corte deve pronunciarsi sono 5. Rinvio pregiudiziale, ovvero quando i Tribunali nazionali chiedono alla Corte di giustizia di interpretare un determinato punto del diritto dell'Unione Europea. Ricorso per inadempimento è presentato qualora uno Stato membro non applichi il diritto dell'Unione Europea. Il ricorso di annullamento è presentato qualora si ritenga che il diritto dell'Unione Europea violi i trattati o i diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ricorso per carenza è presentato qualora un'istituzione dell'Unione Europea si astenga dall'obbligo di prendere decisioni. Ricorsi diretti presentati da privati cittadini, imprese o organizzazioni contro le decisioni o le azioni dell'Unione Europea. Alla Corte è assegnata la funzione di assicurare un'unità di giurisprudenza e di interpretazione. La Corte è giudice di appello nelle materie devolute alla competenza del Tribunale. Il Tribunale. Ai sensi del Trattato di Lisbona il Tribunale è competente a conoscere in primo grado alcune categorie di ricorsi, ad eccezione di quelle attribuite ad un Tribunale specializzato e di quelle che lo Statuto riserva alla Corte di Giustizia. Insieme alla Corte il Tribunale è chiamato ad assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. Il Trattato non indica il numero esatto dei giudici e degli Avvocati Generali, lo indica invece lo Statuto della Corte di Giustizia che stabilisce che i giudici sono 27. Contro le decisioni del Tribunale è possibile l'impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia ma per soli motivi di diritto e dentro i limiti previsti dallo Statuto. Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea con sede a Francoforte in Germania gestisce l'euro, la moneta unica dell'Unione Europea e garantisce la stabilità dei prezzi nell'Unione Europea. La BCE contribuisce anche a definire e attuare la politica economica e monetaria dell'Unione Europea. Obiettivo, la Banca Centrale è una delle istituzioni dell'Unione Europea, e i suoi obiettivi principali sono per l'appunto mantenere i prezzi, tenendo sotto controllo l'inflazione, specialmente nei paesi dell'area dell'euro, mantenere stabile il sistema finanziario assicurandosi che i mercati finanziari e le istituzioni siano controllati in modo appropriato. La banca lavora in collaborazione con le banche centrali dei 28 paesi dell'Unione Europea, insieme costituiscono il sistema europeo delle banche centrali, SEBC. Ne deriva così una cooperazione tra le banche centrali dell'area euro, detta anche eurozona, ovvero i 17 paesi dell'UE che hanno adottato la moneta unica. La cooperazione all'interno di questo gruppo di banche è chiamata eurosistema. Compiti. Rientra tra i compiti della BCE fissare i tassi di interesse di riferimento per l'area dell'euro e controllare la massa monetaria, gestire le riserve in valuta estera dell'area dell'euro e comprare o vendere valute quando si presenta la necessità di mantenere in equilibrio i tassi di cambio. Accertarsi che le istituzioni e i mercati finanziari siano adeguatamente controllate dalle autorità nazionali e che gli sistemi di pagamento funzionino correttamente. Autorizzare le banche centrali dei paesi dell'area dell'euro e mettere banconoti in euro. Monitorare le tendenze dei prezzi, valutando il rischio che ne deriva per la stabilità dei prezzi nell'area dell'euro. Struttura. Gli organi decisionali della BCE sono il comitato esecutivo che coordina la gestione quotidiana, ne fanno parte sei membri, un presidente, un vicepresidente e altri quattro membri, nominati per un mandato di otto anni dai leader dell'area dell'euro. Il consiglio direttivo che stabilisce la politica monetaria dell'eurozona e fissa i tassi di interesse applicabili ai prezzi che erogati dalla banca centrale e le banche commerciali è composto dai membri del comitato esecutivo e dai governatori delle 17 banche centrali nazionali dell'area dell'euro. Il consiglio generale, che concorre all'adempimento delle funzioni consultive di coordinamento della BCE e ai preparativi necessari per l'allargamento futuro dell'area dell'euro, comprende il presidente e il vicepresidente della BCE e i governatori delle banche centrali nazionali di 28 paesi dell'Unione Europea. La banca centrale europea è totalmente indipendente, la BCE non può, al pari delle banche centrali nazionali dell'eurosistema e dei rispettivi organi decisionali, sollecitare o accettare istruzioni da organismi esterni. Tutte le istituzioni dell'Unione Europea, i governi e gli stati membri devono rispettare questo principio. La Corte dei Conti. La Corte dei Conti europea verifica le finanze dell'Unione Europea. Il suo ruolo è quello di migliorare la gestione finanziaria dell'Unione Europea e di riferire in merito all'uso dei fondi pubblici. È stata istituita nel 1975 e a sede a Lussemburgo. Per assicurarsi che si faccia il miglior uso possibile del denaro dei contribuenti dell'Unione Europea, la Corte dei Conti ha il diritto di sottoporre a controllo qualsiasi persona o organizzazione che gestisca fondi comunitari. La Corte effettua spesso controlli sul posto. I risultati sono noti in relazioni scritte sottoposte all'attenzione della Commissione e dei governi e dei stati membri. La Corte dei Conti non ha poteri giudici veri e propri. Se i controllori scoprono frodi e irregolarità, ne informano l'Olaf, cioè l'Ufficio Europeo per la lotta antifrode. Uno dei compiti fondamentali della Corte è quello di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'esercizio precedente, il cosiddetto discarico annuale. Il Parlamento esamina dettagliatamente la relazione della Corte prima di decidere se approvare o meno la gestione del bilancio fatta dalla Commissione. La Corte esprime anche dei pareri sulla legislazione finanziaria dell'Unione Europea e sulle norme in materia di lotte antifrode. La composizione dei Corte dei Conti deve agire in piena indipendenza rispetto alle altre istituzioni, pur mantenendo con queste contratti costanti. La Corte è composta da un membro di ciascun paese dell'Unione Europea nominato dal Consiglio per un mandato rinnovabile di sei anni. I membri designano tra di loro il Presidente della Corte, il cui mandato anche essere rinnovabile di tre anni. La Corte dei Conti si avvale di circa 800 dipendenti, fra cui traduttori, amministratori e controllori. Questi ultimi sono suddivisi in equip e preparano i progetti sui quali la Corte delibera. Grazie a tutti.